Ore 8.30, 2 dicembre 2015, parte la prima corsa della funivia della Gran Sasso d'Italia. Inizia quindi una stagione invernale, almeno dal punto di vista degli impianti, che gli albergatori e sciatori possa essere migliore di quelle degli anni passati. Gli impianti sono stati revisionati, è tutto pronto, adesso fra un po' ci regheremo in quota per vedere qual è la situazione. L'albergo sappiamo che è chiuso, nonostante sia stato affidato ad un nuovo gestore. I sciatori quindi non ce ne sono, ci sono soltanto alcuni appassionati di alpinismo che stanno prendendo con noi la prima funivia. Vento assente, cielo terzo e impianti pronti. Una giornata perfetta o quasi sul Gran Sasso, dove è tornata in funzione la funivia. Prologo di una stagione sciistica che inizia leggermente in ritardo rispetto agli altri comprensori. E ci troviamo all'imbarco della funivia del Gran Sasso, fra pochi minuti parterà la prima corsa di questa giornata. Gli impianti sono ancora chiusi ma la funivia finalmente è in funzione, adesso fra poco entreremo e ci regheremo all'albergo di Campo Imperatore per vedere com'è la situazione. Poca la neve, ma impianti funzionanti e mezzi in funzione sulle piste, per cercare di aprire almeno un paio di tratti del comprensorio di Campo Imperatore nei prossimi giorni. Tutto perfetto o quasi. Oltre allo storico stello, chiuso ormai da anni, l'albergo di Campo Imperatore, appena affidato ad un nuovo gestore, è ancora chiuso. E finalmente siamo saliti in quota, siamo nel piazzale di Campo Imperatore, come avete visto i battipista sono a lavoro, ci sono le gruppe per preparare le piste. Si parla di un'apertura intorno alla prossima fine settimana ma c'è ancora da attendere, mentre in realtà l'albergo di Campo Imperatore è chiuso. Come avete visto alle mie spalle, la struttura, nonostante sia stato trovato il nuovo gestore, è ancora chiusa agli ospiti. L'ostello che abbiamo visto prima è invece chiuso da anni. Insomma, una situazione a due facce, con gli impianti che sono funzionanti e la funevia che è tornata al lavoro e l'albergo invece che è ancora chiuso. Quella che vedete alle mie spalle è la pista chiamata comunemente del Canalino e all'asso fianco c'è quella invece denominata della strada. L'innevamento è ancora decisamente scarso, anche se i mezzi stanno lavorando per abbattere le piste e cercare di prepararne almeno un paio in vista di un'apertura.